Prendi Micro Urban Millennial e riempi la base con 400 ml d'acqua. Posiziona il colino grande e aggiungi 150 g di carote, 150 g di patate e 100 g di peperoni tagliati a cubetti. Metti il colino piccolo e prepara in un anetto un mix di spese con cannella, noce moscata, curcuma e curry, pepe nero e sale. Condisci con le spese appena preparate 300 g di petto di pollo. Adagia le fette di pollo sul colino. Copri e fai cuocere a 750 watt per 15 minuti più 5 minuti di pollo. Condisci a piacere e gusto.